Ciao ragazzi Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo Primo video Della serie Vanessa My SIGLE Ok ragazzi Adesso vi racconto Che cosa farò in questa serie Prima di tutto farò dei trucchi Su un Natale Su un giorno di una settimana Tutto quello che volete voi Basta che me lo scrivete nei commenti Oppure quello che farò oggi Che sarà molto importante come trucco Come trucco farò oggi quello di Youtube Perché grazie a tutti voi Siamo arrivati a 200.000 iscriviti E quindi per ringraziare tutti voi Facciamo questo speciale video Inizierò questa nuova serie Prima di tutto Youtube cos'è? Giallo, verde, aggiorno, bianco Ma rosso Rosso è un colore Che è molto particolare Secondo me Perché è splendido e brillante Quindi oggi Iniziamo con il rosso Bellissimo colore E iscrivetemi Quali altri video volete Sul make-up Per iniziare un trucco Si deve avere una fascia E oggi Usiamo questa qua Rosa La mettiamo Io ho anche questo braccialetto Che mi è arrivato Nel mio papà Perché è andato in Sardegna A chiudere la casa Bellissimo 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 E iniziamo col primer Per fare un trucco Si deve avere il primer Primer Della Maximo Della Maximo Mettiamo Non ne metto tanto Perché se no Illumina troppo la faccia Io qua davanti C'ho lo specchio E' veramente bellissimo Mettere il primer Perché è morbido C'è come se stai toccando Una lungola Ovviamente poi mi strucco E ragazzi Se volete Farò anche Un prossimo video Su questa serie Dove laverò I miei pennelli E tutte le mie spugnette E mi divertirò Uff Adesso Il fondo di vita Tinta Dove sei? Eccolo Io ho questo fondo tinta Avevo quello liquido Avevo Non lo so Mettiamolo Certamente Quasi tinto Però E' il mio compleanno Mi ha detto Che stai a comprare Tutto quello che voglio Quindi è perfetto Mettiamo 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 la spugnette Poi ragazzi Farò anche dei video ASMR Quindi POPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPY Schreibetemi Ne commenti Qual è la vostra Canzone preferita A me Non ne ho una Però se devo dire Cancola Ricci Sfere e basta Sfere e basta E voi ragazzi Qual è il vostro Letter Quattante Preferito Ragazzi Se non mi seguite Ancora su bu.paniche il mio canale instagram andatete a seguire e anche Vanessa e Anastasia e Anastasia memore che è la sorella perfetto, perfetto, va bene con la tinta messo adesso andiamo a mettere il correttore io ne ho un bel 1 2 poi poi 3 e 4 allora di solito utilizzo questo infatti utilizzo questo poi ho questo qui che mi è così finito come potete vedere, questo qui è uno stick e poi questo qua è l'uovo della Maximo io direi di mettere questo e magari vediamo qualcos'altro, ragazzi sta piovendo non so se vedete sembra un po' comodo, però no, aspetta, chiudo guardate come esce e se volete seguire questo tutorial che sto facendo io potete farlo ragazzi faccio vedere questa cosa stupendissima, vedete vederla, gli spugnotti piccoli infatti come ho detto sono tutte sporche, ne ho altre che sono più piccole, però li uso per qualcos'altro ragazzi se non mi seguite ancora iscrivetevi, ci vuole tanti e ne vedete ok, qual'è la vostra marca preferita, scrivetevi, nei momenti, sta parlando con un tele... perfetto ok, ha dato luminosità vado a mettere il bronzer io ho due bronzer, questo qui, che è liquido beh, ma dove si trova? eccolo, l'avevo in mezzo a tante cose, va bene questo qui è sempre la marca, già io l'oro a max, ma non si può vedere questo qui, questo qua che non fa tanto effetto, però va bene prendiamo i pepellini ok, perfetto adesso vado a mettere il luminante e poi iniziamo con i trucchi speciali mettiamo le luminanze ora, aspettate che ce l'ho del spugnante qua, dove ce l'ho del spugnante il spugnante è un po' di qua l'illuminante ce l'ho qui, non so perché perché ce l'ho tutto così messo alla capoletta? ok, adesso ok, mettiamolo un po' di qui ok, perfetto adesso mettiamo i brush che è fondamentale quindi mettiamo qui e qui e poi metto anche il mio profumo io ho un po', cioè qui ne ho due no, tre quello del Coco Chanel Chanel numero 5 Paris e la scarpetta, poi vi la faccio vedere ok vedete come diventa rossa la chiamiamola no, già ok ok un asino rossa ah, ho messo la la, la, la la, la ok devo dire che tutto viene poi andiamo a prendere Wally tutta palettina bellissima dove la uso piuttosto tutte le carte pennellino grazie ragazzi se mette i glitter mi rovino quindi mettiamo un pochino di questo qua sotto visto il rosso come il grido ok e ci mettiamo sopra questo qui che diciamo che forse non ho mai usato ok faccio vedere il rumore perchè il mio papà sta lavando qui perfetto ci mi giochi a giochi a giochi a giochi a giochi a giochi a giochi ahhh ahhh vabbè ehm sembro vabbè provo provo a mettere non si risolvo eh ho risolto ho risolto perfetto adesso adesso metto il glitter questo qui che ragazzi voglio dire che se mi fate quante così è finito posso dire addio tutto mettiamo ragazzi veramente rovino tutto cioè mi vada perfetta mettiamo questi brillancini facciamo quelli ok perfetto perfetto ragazzi youtube la truccatrice di youtube mi devono chiamare oggi perfetto cioè perfetto come può essere vabbè sarà adesso facciamo il mascara prima non tanto perchè poi metto il mascara magari se non è ok non ho tirato tanto sicuramente il mascara della Maxime è un paio pericchino però vabbè ok poi ragazzi se volete anche il video della skin care sono qui potete scrivere in comment quello che volete tutto quello che volete dire quindi scrivete ok perfetto adesso cosa manca l'eyeliner qui tosta è molto tosta molto silenzio silenzio ti vedo che stai parlando se parli silenzio se parli mettere altri 10 likes quindi ok schifo ragazzi non sono fatta per mettere le likes vabbè è venuto è venuto meglio va bene lo so cosa stai pensando allora come dire vi ho contato prima 10 gloss luci da labbra come questo tipo oppure ragazzi c'è un rossetto mi metto questo ragazzi perché adesso vi faccio vedere no questo fa così come il rosso quindi non lo so però vi faccio vedere degli altri rossi c'è ragazzi ovviamente max e more tutta la vita tutta la vita faccio vedere la lista dei miei rossetti ho il rosetto lover rosso with hair candy candy hey candy ho il rosetto tinky pink che è così no e poi ho il rosetto tehole che è così e l'ultimo rosetto total flirt che è così io direi di mettere questo qua che è il più rosso che è no aspetta combattono loro due questo è scuro no dico questo perché è più chiaro come gli occhi quindi questo qua abbiamo detto no? sì devo dire che manca un po' non ho vedato no perché mi è stato ragazzi alla fine l'ho tolto ma me lo rimetto ragazzi lo ho messo come si può vedere non ho messo per me non ho messo le manette ma vabbè e lucida labbra metto questo qui che è un gloss normale perché non lo uso quasi mai perché c'è un altro che è più bello l'altro è glitter quindi glitter è il numero questo qua è normale quindi eccomi qua perfetto questo lucco della youtube e come profumo abbiamo questa scarpetta trovata la cenerentola in strada mettiamo la scarpetta quindi senti l'aria quindi ragazzi questo video finisce qua scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e quali altri video volete vi mando un bacione e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao